Sabato mattina il questore Pietro Stuni aveva annunciato un aumento dei controlli in questa zona, la zona di quartiere Roma. Qui siamo all'angolo tra via Alberoni e via Torricella e proprio ieri pomeriggio in quest'area si è verificato un nuovo episodio di cronaca nera. Due stranieri si sono affrontati e si è sfiorata la tragedia. La lite sarebbe iniziata in via Pozzo per futili motivi. I due giovani dalle parole sono passati alle botte e poi uno dei due ha recuperato una bottiglia, forse dal bidone dell'immondizia, l'ha spezzata e ha colpito all'avambraccio l'avversario che è rimasto a terra ferito. Sul posto sono arrivati gli agenti della questura e gli uomini della Croce Bianca che lo hanno medicato prima del trasferimento al pronto soccorso. La sua prognosi è di otto giorni. Si tratta di un nigeriano 23enne richiedente asilo e alloggiato nel comune di Ponte dell'Oglio. Dalla stessa struttura arriverebbe anche l'aggressore che sarebbe un connazionale fuggito subito dopo l'episodio che in base alle testimonianze sarebbe scaturito dall'uso del cellulare. L'aggressore voleva fare un selfie con lo smartphone della vittima e al suo rifiuto è nata la violenza. I residenti della zona sono esasperati, non ne possono più di questa situazione e ieri attraverso la presidente del comitato Giardini Margherita e Merluzzo, Giovanna Ferrari, sono tornati a chiedere un presidio fisso in quest'area. Proprio sabato mattina la questura aveva posto i sigilli ad un market etnico considerato luogo di incontro tra persone con precedenti penali. Inoltre il questore aveva fatto sapere che i titolari si erano mostrati poco collaborativi. Sei gli interventi di rilievo effettuati dalla polizia nell'area del market in pochi mesi. In zona oggi c'è poca voglia di parlare tra commercianti e residenti. Il comitato ha inviato al ministro dell'interno Matteo Salvini un documento in cui viene illustrata la gravità della situazione. Grazie a tutti.